Con le note di Sua Eccellenza Greg French si è conclusa in maniera inusuale la presentazione di italiani destinazione Australia sfide e opportunità un testo che per la prima volta offre un punto di vista tutto italiano sulla storia dell'immigrazione in Australia di quella attuale di anche dell'uso di social e delle associazioni che seguono moltissimi giovani. In passato più di 300.000 italiani emigrarono per lo più senza titolo di studio e molti agricoltori ma grazie ad un accordo governativo trovarono assistenza per la loro collocazione. Dal 2000 in poi moltissimi giovani sono arrivati grazie al Walking Holiday, un accordo intergovernativo per restare un paio di anni per master e specializzazioni. Circa 12.000 sono i giovani arrivati di cui il 60% laureati e la metà circa però cerca un vero e proprio lavoro e un futuro ma non ci sono aiuti. Infatti diventa sempre più difficile anche restare ed avere un visto permanente. Solo associazioni di volontariato e l'uso di social creano una rete di assistenza. Questo volume dunque è un tentativo di far conoscere all'Australia gli italiani e l'Italia di oggi. Grazie a tutti.